Onorevole Gatta, 14 firme hanno decretato la fine dell'epoca rotice. Tra queste 14, 4 sono di Forza Italia. Come è nata questa insanabile frattura? Ma la frattura sarebbe stata sanabile se ci fosse stata la determinazione da parte del Sindaco di dar vita ad una compagine coesa, ad una politica partecipata, plurale, condivisa. La frattura invece è diventata ancora più insanabile allorché a seguito di una richiesta di verifica politica da parte di Forza Italia che ha subito diversi sgarbi in tutti questi mesi il Sindaco ha replicato destituendo dalla carica di Vice Sindaco il nostro Giuseppe Basta che era anche Assessore all'Ambiente, quindi revocandogli la delega revocando la delega al Consigliere Comunale e Provinciale Liliana Rinaldi che aveva la delega al Turismo e attuando una serie di misure che osseglie definire ritorsive solo perché costoro avevano osato chiedere chiarimenti su alcune questioni importanti per la città e avevano chiesto di approfondire determinati temi. A seguito di questa richiesta negata da parte del Sindaco, Forza Italia ha chiesto una verifica politica la risposta è stata per l'appunto quella che ho appena menzionato era evidente che non ci fossero più spazi di dialogo, non ci fossero più ipotesi di concertazione futura ci sono tra l'altro dei pregressi episodi, abbiamo perduto le provinciali perché Rotice che era stato eletto grazie ai voti determinanti di Forza Italia che è, voglio ricordarlo, il primo partito a Manfredonia dimenticandosi del contributo avuto da Forza Italia alle elezioni provinciali non ha sostenuto il candidato espresso da Forza Italia e da Fratelli d'Italia appoggiando un candidato, una candidatura di disturbo al solo fine di far perdere il presidente uscente Nicola Gatta mio omonimo ma non mio parente e quindi a seguito di tutto questo e di altri sgarbi che sono stati effettuati nei confronti di Forza Italia ma oserei dire anche nei confronti della città perché perdere un assessore provinciale non è una bella cosa per una città e perdere un assessore provinciale all'urbanistica qual era Liliana Rinaldi non è stato un successo né per lui né per Manfredonia e quindi tutto quello che avevamo sognato di realizzare con lui, insieme a lui, sostenendolo lui non è stato possibile farlo a seguito di questo con un atto di grande responsabilità e anche se mi consentite di coraggio i nostri quattro consiglieri comunali Vincenzo Listaso, Capogruppo, Marco Di Bari, Vice Presidente del Consiglio Comunale Angelica Ciuffreda, componente della Commissione Affari Generali e credo, Giuseppe Basta che è il Vice Sindaco e credo di non dimenticare nessuno, spero di non dimenticare nessuno hanno deciso di firmare le loro dimissioni a cui farà seguito lo scioglimento del Consiglio Comunale è un atto delicato, grave che però testimonia inequivocabilmente la lealtà di questi ragazzi nei confronti, ancora prima che di Forza Italia nei confronti dell'elettorato che li ha premiati sono stati eletti Vincenzo Listaso, Angelica Ciuffreda, Liliana Rinaldi, Giuseppe Basta e Marco Di Bari sono stati eletti nella lista di Forza Italia e a differenza di altri hanno onorato l'impegno assunto con il partito che li ha ospitati nella propria lista rimanendo fedeli al partito e votando sempre conformemente a quelle che erano le direttive del partito e giungendo all'estremo sacrificio di rinunciare alla loro carica di consiglieri comunali e anche di assessori o di consiglieri delegati firmando le loro dimissioni e quindi conseguentemente lo scioglimento del Consiglio Comunale è una bella pagina di coerenza e di realtà che fa il paio con la irresponsabilità di chi avrebbe dovuto assumersi l'onere di guidare questa compagine per cinque anni e realizzare tutto quello che avevamo sognato di poter realizzare come ha detto lì poco fa Forza Italia è il primo partito in Manfredonia quindi forse è il caso che Forza Italia è un po' presto per dirlo esprima il prossimo candidato sindaco alle prossime amministrative è estremamente prematuro parlare di questo non ancora chiudiamo questo capitolo e non possiamo parlare di un altro libro dobbiamo chiudere il capitolo riposizionarlo nello scaffale fare tesoro degli errori commessi perché certamente se siamo arrivati a questo degli errori sono stati commessi nell'individuazione dei profili nella compilazione delle liste degli errori sono stati commessi e mi ne assumo anche le responsabilità e poi cominciare a pensare al programma alla compagine a cui dobbiamo dar luogo e poi individuare il miglior profilo per il candidato sindaco adesso è davvero molto prematuro